Il comandante della polizia locale dell'Alto Garda Eledro, Marco D'Arcangelo, ha ricevuto un mandato che stabilisce maggiori controlli per i ciclisti che non utilizzano, nelle gallerie della Gardesana, i dispositivi di sicurezza, ovvero le luci e le pettorine fosforescenti. L'attività di controllo sarà effettuata in accordo con gli altri comuni rivieraschi del nord del Garda, in particolare Malcesine, una decisione figlia della sempre più massiccia presenza delle biciclette sulle strade dell'Alto Garda, un fenomeno destinato a crescere e ad alimentare il turismo di casa. Una campagna preventiva supportata anche da una brochure distribuita ai cicloturisti.